qui abbiamo prodotto italico 100 del 50, il mio numero è 17, 98 98, 9 più 8 17, 9 più 8 17 e 17 questo signore ha solo cose con 17, la vespa me l'ha venduta lui, la somma algebrica dei numeri della targa fa 17 quindi questa qua io ce l'ho nel merino da quando mi ha dato quell'altra, 156 cose particolari, il pulsantino me lo ricordo ancora, il pulsantino con lo spegnimento qua è tanta roba, cioè con questo si spegne così, vedi adesso questa è partita subito, ma la fai sentì, sicuramente devi sistemare il carburatore, perché dopo sei rispinto, perché se fanno non è possibile, è del 56, ha 62 anni, snazzica, un pochino snazzica, però d'altronde, no perché sicuramente adesso stando fermo, 4 mila lire il bollo, 4 mila lire costava, la tassa di circolazione, poi diventare di possesso, perché se non la usavi, essendo di circolazione, non la pagavi, la tassa di circolazione di argentino, se non usavi la moto, non la pagavi, allora i furbi di possesso, perché il mondo è dei furbi, la passione, vedete qua, la passione, c'hai cliente e ristorante da servire, le fatturanti che ne può fregare meno, guardalo, 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 perché sta facendo così, perché fa così, grazie, che bene, gira eh! Lui ha lasciato tutto, la gente da servire al tavolo, è diventato tutto freddo, non gliene frega più niente, il bambino è uscito fuori, ha 12 anni in questo momento, a me mi piace il profumo della benzina che si fa, il profumo della benzina che si fa, secondo testo, male! La devo portare via, un po' di parlato, deve rimanere famiglia questa, quella è una gilera, meravigliosa, qua abbiamo olio, olio, non c'è più niente, non c'è più niente, ci siamo veduti tutto, c'è crisi, tempi di crisi, se vendemmo tutto, c'è crisi, bella, andiamo a finire il video, perché ti, ho fatto un video, meraviglioso, l'odore della benzina, hai vinto tu, questo vuole 10 sacchie video nei vostri, per gli stessi stanzati!